Incrementare il numero dei parcheggi nel centro della città è una scommessa che l'amministrazione a Corinti può vincere. L'assessore alla mobilità urbana Gaetano Cacciola sta per centrare un primo importante obiettivo, ovvero l'apertura del parcheggio Zaire Sud, quello realizzato sotto Villa Dante. Sabato la struttura appaltata durante l'amministrazione genovese, sfruttando i fondi della legge Tognoli e quasi ultimata durante l'amministrazione Buzanca, verrà finalmente aperta. Tutti realizzati piccoli lavori di adeguamento prescritti dai vigili del fuoco dopo i sopralluoghi dei mesi scorsi, utilizzare il parcheggio, le tariffe verranno definite nelle prossime ore, dovrebbe costare 50 centesimi l'ora. Ma la novità sarà principalmente quella del biglietto unico per lasciare l'auto ed usufruire del mezzo di trasporto pubblico, con un costo che dovrebbe variare da 1,70 a 2,60 euro. L'apertura del parcheggio Zaire Sud può rappresentare un passo particolarmente importante verso la realizzazione dell'isola pedonale permanente di Piazza Cairoli. Lasciare l'auto per prendere il tram sembrerà finalmente possibile ed il numero dei posti auto in centro nei prossimi mesi potrebbe ulteriormente crescere. Ieri l'assessore Cacciola ha dichiarato che i parcheggi modulari abbandonati nell'area del Palazzetto dello Sport di San Filippo saranno smontati per essere ricollocati nell'area sottoutilizzata di Via La Farina. Un impegno preciso che non ha ancora una data ma che è al centro di serie valutazioni. Centinaia di ulteriori posti auto potrebbero incentivare le passeggiate senza il rischio delle multe per le doppie file.